Ruggeri ha presentato un'interrogazione per chiedere un'azione congiunta con altre regioni per modificare la legge che riguarda i tamponi. Che cosa chiede nello specifico? Chiediamo nello specifico che anche le parafarmacie possano fare i tamponi rapidi. Questa è una proposta che nasce da parlamentari del Movimento 5 Stelle. Hanno presentato questo emendamento al mire le proroghe in commissione, sia alla Camera che al Senato, e l'emendamento purtroppo che è stato rispinto. Quindi adesso stiamo facendo un'azione da parte di tutte le regioni italiane. In alcune sono state proposte delle emozioni che sono state anche approvate, per esempio in Lombardia. E per la situazione delle Marche, che è una situazione più particolare, ho pensato che potesse bastare un'interrogazione per capire come stanno effettivamente le cose. Dove sta l'inghippo? L'inghippo sta nel fatto che nell'aprile dell'anno scorso la Giunta regionale ha fatto una delibera per permettere che anche le parafarmacie, oltre alle farmacie, potessero fare questi test per la prevenzione del Covid. E ripeto e ricordo che la legge adesso prevede che si esca dalle quarantene anche tramite un test che viene effettuato in farmacia. Quindi a maggior ragione adesso sarebbe utile questa cosa. Però insomma la regione si era mossa con anticipo, proponendo questo accordo con le parafarmacie, ma un mese dopo ha ritirato la delibera. E adesso siamo arrivati, dopo ricorsi al TAR e fino alla Corte Costituzionale, e siccome la questione non sarà di breve risoluzione, chiediamo alla Giunta e al Presidente Acquaroli che intenzione hanno come intendono procedere per rendere possibile che ci sia questo aiuto per la prevenzione del Covid con la partecipazione anche delle parafarmacie, oltre che delle farmacie, come avviene ad oggi.